buongiorno ragazzi oggi siamo ritornati con la mia macchina lego perché tanto questo pacco una radio per le macchine tanto io ve la faccio vedere però in un video riesco a prendere vabbè poi me la farò vedere in un altro video perché modo si può vedere quindi allora siamo ritorno va bene lasciare lasciamola così siamo ritornati con questa macchina voi direte il perché sì perché voglio vedere in questi ammortizzatori se ci sono nella macchina se cammina può camminare infatti ora prendo un'altra macchina siamo ritornati anche con la mia macchina costruita da beh fatto io ho provato a vedere molto come funziona e ci ho imparato tantissimo ho cambiato le batterie erano zero tra poco erano 1% come già vedete io non ci sta accendendo ma ora capovolgiamo la macchina e mettiamo la macchina sopra già le ruote cominciano a camminare allora guardate come va però le ruote camminano quindi un bello indizio buon indizio perché significa ecco questa macchina nuova funziona ora ma voi avete visto poi voglio vedere un attimo voglio vedere una cosa vediamo perché io non penso che sia vero allora io ho tolto oh 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 ma allora devo dire che queste ruote è questo che lo lasciamo sulla macchina allora devo dire che è bella forte questa ruota molto ok allora poi dove era questo pezzo allora abbiamo visto la mia macchina perché costruite la case adesso poi mina oddio ok 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 ora lo tengo per vi consiglio di fare una cosa con questa macchina se voi volete farla camminare veramente prendete prendete sapete quelle che fatti sport e camminate sopra quello c'è un elevatore che tipo fa wii 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 un elevatore come se fossero scarabili prendete quello legatelo al centrina di controllo la dove ti tiene che non ti fa cadere e la macchina e la macchina questa oppure quale macchina lego volete camminerà tranquillamente ragazzi non vi dico bugie ma proviamo intanto poi questa macchina se voi lo sapete non l'avete mai sapete ma questa macchina va a duecento nella velocità pure se voi la vedete che non va a duecento eh però va così a questo numero di velocità guarda c'è ci può stare la mano ma dove si consumano eh poi ha sentito tutto il rumore e e e io mi rinuncio che le ruote si sono cioè si sono raschiate da qualche parte ok che qua c'è il bianco e si sono raschiate però madonna cioè io non pensavo che facevo wiii cioè ha scammato eh ha scammato sapete perchè io sono ritornato con questa allora sono ritornato con questa macchina perchè è troppo bella io la amo cioè guardate poi qua sopra ci sta benissimo ci sta benissimo sembra un mobilino e è bellissimo guardate cioè io se bellissimo ma sembrano dell'amore l'altra parola lo dobbiamo mettere in un modo giusto dobbiamo creare come l'altro mi sta chiamando il mio amico mi sta chiamando l'altro il mio amico no ho chiuso ho chiuso mi hanno chiamato un mio amico e sta facendo un video quindi allora Vincenzo stavo facendo un video ragazzi io concluderei qua il video perché abbiamo visto il retro e il davanti con la leggo come è andata quindi io direi di concludere qua Vincenzo saluti i miei fan saluto saluto il mio amico di scuola come sempre vi ricordo di lasciare like e scrivere il canale e attivare la campanella ci sentiamo in un altro video e ciao